migliori dei modi le qualifiche si sono concluse con un giro veloce e mostruoso quindi la domanda sorge spontanea tre sono curiosissimo riguardo le strategie che adotteranno oggi le scuderie coloro che iniziano con le ruote morbide marchiate in rosso avranno maggior aderenza alla partenza ma dovranno tener conto che si consumano prima grazie ciao soundalerts buongiorno a tutti ragazzi stream element ah no chi è che c'è la scura stream element soundalerts oggi oggi gran premio a dettaglio pronostico manuè manu ciao manu ciao manu allora pronostico vinco io vince drums leclerc nella realtà non lo sappiamo nessuno sul canale di marco drums lo può dire quindi ci vediamo tutta la gara di marco drums games channel a monza e invece poi andiamo a vederla dopo registrata o indifferita sull'assetto quello che è tutti quanti insieme ciao mattonella io sto bene tu come stai amico mio speriamo per la ferrari assolutamente si manu assolutamente si mattonella come stai grandissimo è una vita che non entri ciao amici se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi immediatamente oggi gran premio di monza che a 40 km da casa mia potevo anche andare ma sono qui con voi ragazzi sono qui con voi per fare la gara insieme ok allora sono bello gasato sono anche emozionato monza 100 ragazzi c'è una gare che ha fatto monza tanta tanta roba tra dieci minuti parte speriamo che la farei nella mia strategia puntano tre gomme invece di quattro guarda non so dirtelo non sono un meccanico io da pilota io da mega pilota della ferrari ti posso solo dire che io correrò in maniera egregia dall'inizio alla fine se poi box mi diranno informazioni sbagliate non è corpa di marco drums leclerc ok ragazzi non so se hai visto che hanno fatto l'ultima volta sì sì ho visto visto manu un disastro un disastro però addetta da fuori da noi addetti ai lavori vedendola noi da tifosi ogni volta che perde è un disastro probabilmente sono tante cause anche di di sfortuna dai facciamo così perché sono siamo tristi ma non piace allora sono contento esulto e sono felice quando vince la mia ferrari e la ducati e tutto quello che il nostro italiano sono un po triste quando perde però sinceramente non mi faccio problemi sarà per la prossima sarà per il prossimo campionato sarà per il prossimo anno sarà per ciao reus grande forza ferrari sempre se non sei iscritto iscriviti al mio canale amico mio se sei iscritto è perché non mi ricordo mai niente ragazzi non so neanche al computer a vedere le cose devo stare qua sul cellulare a vedere quello che vi scrivete perché dopo dopo un tot di cose che scrivete ci sono i puntini cioè robe assurde allora sto anche condividendo allora ragazzi alle 14 parte il gran premio di formula 1 monza 100 marco drums games che è oggi solo per oggi per voi marco drans leclerc e a dire la verità mi piace talmente tanto ma non sono proprio così veloce c'è sempre le due destra che non mi ricordo mai come si chiamano prima della scari no che non è che le faccio proprio sempre tanto bene cioè tendo sempre a farle volente o non farle proprio giuste non lo so mi emoziono quando arrivo in quelle due corve lì tutte le volte e ho paura di sbagliare e chiaramente quando uno non fa una cosa naturale le sbaglia quindi va beh allora speriamo oggi vado senza ciao amici amiche di twitch mi raccomando state qui con me la parabolica la parabolica non allora a volte la sbaglio perché sbaglio la marcia o tendo a frenare un po troppo tardi parabolica non mi fa paura no è presente tu vai dritto c'è la s dalla variante la prima variante ok poi c'è la seconda variante dopo la seconda variante le due curve a destra a curare serraglio potrebbe essere manu è che non me li ricordo io non mi ricordo i nomi mi ricordo la scari perché ci sono andato e ho fatto sei anni di fila andare a vedere la superbike ho visto una formula 1 e ho visto il campionato adesso non so dirvi sarà quello delle bmw con mio amico davide o se era o se era quello di qualche ueiii sharder ciao amico mio sharder dobbiamo farle insieme queste cose amico marco in settimana e io giravo con la lambo ma non mi ricordo i nomi ecco vedi manu grande la lambo io sono andato invece in due circuiti sfigati allora uno ho usato la lamborghini aventador non vorrei dirti cazzate perché non mi ricordo però mi sembra che era quella lì una lamborghini era verde era una lambo però giuro e la ferrari 458 italia asus molto no no io l'ho fatto veramente manu l'ho fatto perché c'erano non so se sapete che ci sono quei pacchetti che comprate anche al supermercato adesso non voglio fare il nome della marca ma non me la ricordo neanche a essi no no 16 no devi avere 21 mi sembra per poter correre in pista comunque va bene ti fanno fare due giri due giri io quello della 458 italia gli ero simpatico perché sono come voi parlo rido scherzo gli ho rotto i cogliones così e allora lui praticamente mi ha fatto fare tra i giri però non è che giri come voi tu è nel senso sono sempre loro con la a dirti che cosa devi fare non accelerare frena a 100 metri prima cioè non vai proprio fortissimo però chi se ne frega nel senso è l'emozione per una volta per provare la ferrari che possono messe da corsa quindi non sono proprio quelle reali e poi chi se la compra una ferrari nella vita reale cioè o sei un miliardario se no la ferrari la vedi solo o su gran turismo o sì sì bravissimo sì 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 è così però sinceramente ti dico la verità ero ero iper felice contentissimo ero stramega contento tra l'altro la lambo non dovevo neanche correre io l'avevo preso il pacchetto lì l'ho regalato a carla a mia moglie carla però poi non so perché quel giorno lì ce l'aveva girata boh ma sì le charder costa 60 euro 80 euro pacchetto ma però non sono fi alla ma però non si dice mai nel mio canale dico quello che voglio non sono piste strafighe non vai a monza vai nelle piste de merda capito quelle un po e poi come dice manu ti fanno frenare prima quando arrivi che sta arrivando frena frena comincia a frenare comincia a frenare e allora tu devi frenare perché non è che fa il pagliaccio lì con l'istruttore di fianco però sinceramente chi se ne frega io sono stato felice penso che magari non ci andrò neanche più a correre così perché so che comunque stai tutto in ballo tutto il giorno per fare il primo giro che ti spiega non vai un cazzo secondo ti fanno andare un po di più e poi è finito tutto capito c'erano altri ci sono altre ditte che fanno queste cose qui che ti fanno proprio correre anche più giri mi sembra paghi un tot a giro certo che mi ricordo di te sei avil grande come stai mio mio allora no mi ricordo niente scusami se mi dici chi sei forse facciamo avi avil 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 se qualcuno che ricordo ricordo chi sei ma non mi ricordo chi sei avil avil allora kevin ha cambiato nome ma non è non è non sei kevin avil chi è shardel ti ricordi avil che è un amico di di mio figlio vai prima scriverlo fai una live fai una live dal nur burguering e si potrebbe fare io io ho fatto una 24 ore ho fatto una 12 ore su gran turismo è che me la sono ricordata e non ne farò mai più in tutta la mia vita però se vuoi farò un io avevo già intenzione di fare non so un otto ore un 10 ore 12 ore dal aleman e al coso e lo tuo compagno di scuola si è vero scusami avil ti ho anche sul cellulare sei ancora dentro sul cellulare su whatsapp belle da uno è sì 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 adesso dobbiamo partire ragazzi grande grande avil grazie che sei venuto ma dopo facciamo qualche garetta allora sharder finita la gara se non sono stanco sì perché no tanto tu sei qua no allora io vi consiglio ragazzi se state guardando la gara in diretta seguitemi anche tenetemi magari a bassa voce o sentite l'audio insomma e mi guardate lo stesso e secondo voi chi vincerà la gara allora io da cuore e da quello che sto facendo adesso secondo me vince le clerk perché a monza è troppo 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 pompato bisogna vedere cosa fa la la red bull perché sono veramente forti anche se parte dietro ragazzi non dimentichiamoci che possono può vincere anche se parte ultimo secondo me e cosa fanno le cazzate del muretto quando inizia la gara ti metto sul secondo momento ma non scriverò grande mano grandissimo ti stimo ti stimo amico mio grazie 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 non spoilerare per cortesia è esatto manu entra nella nostra lega log logne non saprei che cos'è giro su pc sì 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 ma si può fare manu è si può fare hanno attivato cross play cross platform con cross cross qualcosa insomma si può fare da qualche volta ci facciamo una bella una bella partitella insieme amico mio comunque avevamo capito shard vai tranquillo e sono i cellulari che scrivono come vogliono loro anch'io il più delle volte allora più delle volte ringrazio che scrive il cellulare perché se no non si capirebbe nulla di quello che scrivo dimmi quanto non ho capito nulla scusami stavo condividendo la live su twitter vabbè rispondi tu shard scusami amico io e shard se poi ogni tanto metti anche il il vieni amore saluta saluta almeno i nostri amici allora ciao a tutti ciao amico mio c'è shard c'è tantissimi ricordi il ragazzo che era con me nella scuderia grande allora marco allora marco io ti metto ti do in tutti i link del del mio canale visto che tu sei il moderatore più bravo del mondo e ogni tanto se vuoi mettere magari il disco avil si grandissimo avil avil o evil boh carlo ha detto elvis vabbè no elvi elvis amica sto correttore ragazzi contro la rovescia contro la rovescia contro la rovescia amici mancano quanti secondi aspetta vediamo ma non c'è quello quei secondi no non c'è ma no guarda la è sbagliato ma non c'è un contatore da qualche parte ma non c'è allora 1 e 58 roma roma allora ragazzi due minuti e partiamo davmi un bacio amore mio potrebbe anche essere tutte molte che ti vedo se vado a sbattere sono veramente emozionato ragazzi beviamo un goccetto di 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 cola ok ragazzi per un'ora e cinquanta spinnala e vai tranquillo manu ritiro il collo sta bambolina ragazzi ma non ho capito è il mitono ogni volta dice che fa l'ultimo anno e si ritira poi si ma sì ma perché perché ragazzi allora voi dovete capire una cosa non dico sbindo la macchina sì 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 beh devo sbinare lei vuoi che sbino lei no allora allora praticamente ragazzi allora praticamente no si non ha capito quello che vuole dire un minuto ragazzi un minuto adesso in questo momento i piloti sarebbero lì chiusi nel casco stanno pensando allora la prima curva 174 la seconda frena a 180 metri io non mi ricordo un cazzo ragazzi allora ma la ferrari non l'hanno cambiata a f1 ma la ferrari non l'hanno cambiata a f1 non lo so se io so solo ma anche te devi metterti il casco cielo al casco ma fa troppo caldo dell'inverno lo metto giuro allora di colore all'hanno cambiata no mi sembra la pinetta gialla però la macchina è rossa siamo pronti ragazzi io sono sono emozionato vi dico la verità dopo chiudi la porta che se urlo prossima live tua in i fughe casco della madonna basta basta ragazzi basta ragazzi 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 partito il gran premio gp molto a 100 bastardo per che mi ha fregato valor dove sta perché a 100 bastardo per i contatti grazie amore è questa è questa che vi dicevo ragazzi orca loca grande charler grande charler o cannata di brutto allora a livello del ilia al 50 è man mano che facciamo una gara l'aumento di 5 amici miei carla dopo corre con me se se può sì 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 bravo il percorrente adesso diciamo non so che gioco giocano ragazzi terribile terribile è il primo giro andato di 53 amici leclerc il giro veloce il giro veloce quanto hai fatto mio amore bravo bravo dai dopo se finisci vieni su che giochiamo diciamo un po con charlerino oh ti stavo dando un pugnetto stavano contro un muretto concentrazione charler concentrazione charler non farmi i pugnetti ahahahahah non c'entra niente eh falli falli un po meglio ragazzi eh manu cazzo io penso che cazzo io penso che cazzo io penso che no dai andare a sbattere a molta non è possibile eh non è possibile ah in prima la fai? mi sembra che in prima poi dopo quando do acceleratore mi gira preferisco farla in seconda quinta facciamo no no grazie amore mia ciao siamo saluto a tutti chiudimi la porta mo ah ok 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 perfetto vedi seconda curva e do già un po di gas allora contate ragazzi che io non ho assolutamente voglia ciao carla dopo grande charler di sbattermi troppo con l'acceleratore quindi io dico la verità non fingo mai su quello che faccio dico che ero qui e aspettavo il tuo saluto se no marco dice è già andata eh si e si dice sempre così marco via romo questo va al corridoio ah ok la curva questa è la quarta eh allora io credo che si possa fare in quinta questa vediamo no la forza no 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 mi con ehi vedi manu ciao amici ciao amici di twitch come state questa qui si può fare in quinta mi sa adesso miglioriamo dai 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 che gli diamo paga gli diamo paga versatti guarda dov'è allora questo potevo farlo sinceramente anche al 55 per cento eh sono arrivato a un punto ragazzi che posso anche permettermi di questa è cannata la parabolica l'ho cannata allora per adesso il 50 manuel manu scusa ah per adesso il 50 continua così sono partito da 35 e e diciamo che sto salendo un po' alla volta perché ti dico la verità farmi un'ora e quaranta per poi essere doppiato da tutti mi sta un po' sulle scatole eh 85 io è quello che punto ad arrivare infatti quando corriamo io shard così comunque in settimana o o corro per i fatti miei eh ce l'ho su 60 o 70 però ehm ti dico la verità qui è più che altro è è tosta è tosta e devo anche parlare con voi quindi devo anche quando faccio queste live della domenica mi piace prima di tutto correre e ma stare con voi quindi devo anche rispondervi devo leggere vedete che non c'è neanche carla non c'è computer e quindi non ho troppe cose da controllare perché loro sono troppo forti però sto vedendo adesso che è comunque vado vado più forte di lui quindi praticamente se andiamo avanti così 53 giri di doppio potevo fare anche un 60 secondo me eh ma sai che cos'è più che altro e quando le piste non le conosco e allora se non conosco la pista devo devo tirar giù un po' quindi dovete abbassare troppo a velocità eh vedi Evil eh sì eh secondo me sì anche 65 Emanu sai che cosa è l'unica cosa che si effettivamente ha un senso che non si può fare è cambiare il livello di difficoltà mentre giochi perché loro dicono tu fai non so eh mi chiudi la porta perché se no ma un tot ha ha poco e poi lo cambi alla fine lo metti al massimo tu non hai corso al massimo hai corso a si allora poi diciamo la realtà che come gioco eh il come si dice il computer fa un po' di cavolate eh però ho notato anche in Gran Turismo l'altra sera che sono entrato ragazzi che eh ti buttano fuori eh vedi che rimane un po' troppo giù di giri in quinta ho sbagliato perché ho frenato un po' troppo beh diciamo che sono 4 secondi eh comunque eh non è che gli sto dando via tanto eh poi adesso si mette controllo trazione medio è vero è vero è vero ma infatti anch'io doso eh comunque l'acceleratore però il controllo trazione ce l'ho è un po' come Gran Turismo no? ho cominciato controllo trazione 3 adesso su certe macchine eh lo posso togliere pochissime in altre macchine ce l'ho sull'uno si 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 se sei sulla sua traiettoria sulla traiettoria del computer praticamente sei sei praticamente buttato fuori ho visto la stessa cosa anche in Gran Turismo eh che era quasi meglio andare online che 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 andare contro il computer l'altra sera mi sono anche un po' arrabbiato ti dico la verità venerdì sera c'è la mia live in registrata se vuoi vederla eh che mi sono un po' un po' arrabbiato anche ok il distacco da quella dietro è 4,3 secondi eh si ma infatti anch'io sto esplorando perché il Formula 1 mi piace davvero tanto sia a livello grafico che anche a livello di gioco e col volante funziona benissimo adesso mmm è un po' rognoso quel fattore lì quando giochi contro gli altri che ti vengono addosso ti fanno sbattere e succedono bordelli però sostanzialmente è un bel gioco ecco stiamo facendo la Lega quindi Evil anche tu se vuoi partecipare alla nostra Lega ci farebbe solo che piacere eh se vuoi Charder ricorda Evil la nostra Lega perché anche lui ce l'ha eravamo in squadra insieme o in terza vado in prima in parabolica Marco e che così magari gioca con noi il tuo volante ti sta abbandonando perché cos'è che sta succedendo Emanu spiegami no il G29 allora se fa robe strane ho fatto un video per la pulizia della pedaliera eh perché il mio faceva cose strane e sono riuscito a risolvere completamente con un video su YouTube tra l'altro Charder se puoi per cortesia amico mio mettere il mio canale YouTube con il link così i ragazzi possono andare a vederlo ma eh quando giro ah puoi smontarlo lo sai magari è un un pezzettino di plastica che si è si è spaccato e puoi incollarlo magari con una colla di quelle lì c'è anche la mia e poi c'è anche la mia non ho capito Charder livree le livree di Charder ci sono le livree fighissime di Charder su YouTube raga se l'ho passata nel cellulare preferisco ah la lega certo certo non fare danni io quando smonto qualcosa ah ok eh però allora io non ho smontato ancora la parte sopra perché funziona bene la pedaliera l'ho smontata l'ho smontata e se hai problemi di pedaliera c'è proprio un video dettagliato che spiego le viti da togliere cosa fare come pulirlo e tutto quanto sul mio canale per pulire la pedaliera perché a me dava il problema invece che frenava da solo invece il tuo problema è un altro però comunque sono quattro viti si tira fuori il cappellotto sotto e vedi c'è un problema proprio che si è spaccata una plastica magari è dato qualche botta di troppo o magari è una plastichina dentro un po' ciao amici amiche di Twitch buona domenica buon GP100 ciao Kevin ecco qui il mio amico ciao amico mio Kevin ho fatto una partenza bestiale uuuu Manuè Manu anch'io voglio fare una take di Pro ma non c'è non esiste non lo fanno devono produrli non ce n'è non si provano ciao amici amici e amiche di Twitch buona domenica buon eh GP di Monza 100 100 gare a Monza e lo so amico mio no sulle 850 si trova su Amazon l'unica pubblicità che faccio è Amazon ragazzi perché qui c'è via Amazon quindi visto che loro mi danno la possibilità di poter stare con voi di streamare di usare il loro servizio eh è giusto fare la pubblicità ad Amazon io lo prenderò da Amazon non da Fanatec direttamente qualcuno mi ha detto che col corriere normale da Fanatec ehm è il DD Pro il tuo che vuoi prendere Manuel? perché ti chiamo Manuel? scusa Manu scusa se ti continua a sbagliare il nome ma vabbè Manuel sei Manuele però ti chiamo Manuel non so perché c'è altri Manuel eh quindi Manu e il DD Pro è quello che va bene sia su Xbox che su Playstation perché è il mio nome no 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 che ti guarda ahahahahah su poi voglio riprendere anche ragazzi a giocare ad assetto corsa competizione eh se ce l'avete possiamo fare anche delle lobby noi sinceramente possiamo anche giocare a se volete dopo dopo la gara di Monza possiamo anche giocare insieme eh basta che lo dite possiamo anche fare una gara normale multigiocatore senza fare per forza la Lega che siamo vincolati se siete o non ci siete venite e ci facciamo una partita là insieme eh Sarder è già qui tanto credo che Monza non è un circuito che mi stancherò tanto credo eh poi vediamo alla fine quindi se volete alla fine della gara possiamo anche fare una garetta insieme se sono stanco vabbè prendo e faccio un po' di pausa vediamo un attimo prima di tutto come si concluderà la gara e poi secondo ragazzi voglio sapere una vostra un vostro parere pronostico secondo voi a quanti giri devo fare il pit dipende dall'usura della gomma allora guarda abbiamo 16% e 22 la posteriore sinistra 16 le due davanti la posteriore sinistra un po' di più probabilmente perché chiaramente sono le curve tante curve a destra e la sinistra va un po' infatti vedete che 23% la sinistra non vorrei che cede quella lì eh facciamo un pronostico e vediamo se noi siamo più bravi di quelli della ferrari oggi nella gara reale il volante che voglio è il podium e adesso costa 1700 ah ok scusa Manu eh sì 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 eh quello è il top eh no io io mi accontento di di proti di quella verità anche perché sinceramente col mio G923 ci godo come un matto quindi è solo andare a migliorare quello lì è veramente da pro poi bisognerebbe avere una postazione non prendere un volante da 1700 e non avere la postazione penso che non vada bene nel senso bisogna avere la postazione dove ti siedi mio amico eh Massimo una volta che è venuta qui da me no eh il mio caro amico e niente praticamente gli rompevo le scatole gli parlavo delle gare viene a vedermi ogni tanto viene dentro anche nelle live tutto no eh ed il Gemma si chiama lui no e praticamente è la sua ditta e praticamente vabbè niente il giorno viene qui era un sabato eh vabbè l'importante i sogni sono sogni ragazzi possono anche durare tutta la vita se i sogni sono desideri e ci aiutano a vivere sogniamo ragazzi sogniamo è meglio sognare che non avere non avere sogni non avere desideri non avere speranza e la speranza è l'ultima a morire quindi non si sa mai una botta di culo qualcuno che ce l'ha usato che ci sia in commercio che fanno un modello nuovo e poi si costa meno eh una vincita su per una lotto tante cose no i noni di zii qualcuno che a un certo punto ti da 10 mila euro così fai quello che vuoi ahahah magari a me non mi ha mai dato niente a nessuno ragazzi vabbè facciamo stare queste cose e ahahah mi sono sempre comprato tutto io e eh eh è così così passi per strada una busta di soldi lasciata lì che nessuno vede non sono rubati non sono di robe strane 10 mila euro così sputtati da un camioncino vabbè ciao amici amiche di Twitch grandissimi benvenuti GP di Monza 100 2020 due ragazzi 100 100 gara a Monza le corriamo insieme io sono anche emozionato di correre siamo ahahah siamo orca loca orca loca orca loca ragazzi scusate sbaglio mio sbaglio mio sbaglio mio eh adesso te lo scrive Sharder come si chiama la Lega scusate ragazzi per salutarvi ho completamente sbagliato ho completamente sbagliato ho completamente sbagliato Marco Drums Racing Team ed è mia al 50% con Sharder eh quindi Sharder è proprietario della della Lega della Team del Marco Drums Racing Team Sharder è mio caro amico e fa delle livree pazzesche ragazzi venite a vedere anche le live su YouTube e i video registrati su YouTube di Gran Turismo eh che ci sono tutte le livree ho fatto dei filmati ad hoc su tutte le livree che ha fatto il mio amico Sharder eh 29% ah ok non la trova come mai beh possiamo crearne anche una nuova eh magari eh Sharder chiamala uguale oppure campionato MDRT senza chiamarla Lega che cambia il nome e facciamo quella lì invece di quella che ha creato che intanto eh esatto eh esatto e attiva il crossplay bravissimo bravissimo ma non stavo dicendo adesso a Sharder di attivare il crossplay perché sennò magari è per quello che non non la vedi è impossibile perché Kevin quando l'ha fatta non c'era nessuno su PC e quindi non non c'era neanche motivo eh e dai dili il nome di quella che hai creato tu allora oh invitalo ti fai dare il suo nome boh adesso accende il mitico Sharder ma la gara inizia alle tre ragazzi la gara reale la vera ok alle tre quindi praticamente la iniziamo un'ora prima quando inizia la gara reale noi manca manca una mezz'oretta bene 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 allora disattenzione di Marco Trams attenzione ragazzi disattenzione Marco Trams è andato dritto alla prima variante incredibile incredibile ma non si è ricordato che c'era la variante ahahah bellissima qui non è la sfida contro Verstappen o contro il muretto poi il titolo comunque quando fare il titolo lo dico il gioco ah ok 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 quindi devo schiacciare il quadrato devo schiacciare il quadrato erogazione allora finestra pit stop 2431 ciao amici e amiche di Twitch se non siete iscritti al mio canale iscrivetevi Marco Drams Games su Twitch e su YouTube amici e mi raccomando mi raccomando speriamo e ti chiamo la mitica Ferrari oggi pomeriggio anche se voi siete di altre altre piloti e altre scuderie oggi si tipa tutti Ferrari si chiama F1 Racing MDR la mia ecco F1 Racing MDRT Manu anche tu Avil Avil se vuoi far parte della nostra lega tanto lo facciamo per divertimento e niente di se già fai parte di altre leghe puoi farle tranquillamente quando ci siamo alla sera ci colleghiamo e e corriamo una volta orca loca no come mai ma dovrebbe funzionare ma si funziona il cross play sulla lega? non è che magari il cross funziona sul giocare sul multigiocatore ma sulle leghe no ragazzi lo dico io eh magari dico una stupidata ma prossime gomme H dure ok vediamo il fondo a rettilineo o retitiro il la temperatura delle gomme è sempre una adesso questa è andando forte eh dovrebbe raffreddarsi mica male senza paranta e vediamo mille mille e cento gradi eh poca mille ragazzi ti rendete conto che grande science dai ma super a pere ma secondo voi ragazzi adesso che stanno aspettando di correre stanno anche se il mitico charles claire e il restaffer stanno vedendo la gara di marco drums games sicuro ahahah sapete che roba no no sto guardando la gara e beh ahahahahah col cellulare l'impista sarebbe figo eh secondo me arriva un botto di iscritti comunque stanca eh stanca lana guardate quanta gente perdita di aderenza da un momento all'altro perdita di aderenza da un momento all'altro raga eh ma se la finestra è tra il 24 e il 31 17 già abbiamo una perdita di aderenza no non è un manuel ultra mi sembra eh no 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 non è manu è entrato da poco è un grandissimo manu ah secondo me è ah eccolo lì il nome suo prova a cercarlo tu che è charger magari si trova ragazzi sta andando la gomma dietro ve lo dico ha fatto un qualcosa di strano in curva eh 39% la gomma sinistra posteriore ma come fai a inviartela? lui è da pc due giri dici? due giri entro? charger charger 98 si chiama come ti chiami charger in gioco? ciao amici di Twitch amiche buona domenica a tutti buon Monza 100 eh stiamo prima noi giocando e dopo andremo a vedere il vero gran premio che oggi veramente bisogna tifare la nostra Ferrari anche se siete di altre scuderie credo che comunque oggi un po' l'essere italiano deve contare eh Monza è bellissima la tifoseria è la migliore del mondo quindi anche se poi vince qualcun altro dobbiamo festeggiare le nostre Ferrari e comunque qualsiasi macchina l'importante è il mondo dello sport ragazzi si ma se vado avanti a guidare così schifus allora sto guidando così schifus ragazzi perché le gomme sono un po' andate eh ciao amici di Twitch mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete iscritti portiamo un sacco di giochi eh day one edition xbox 6 e playstation 5 eh mi raccomando ragazzi ho anche un bel canale youtube dove faccio un sacco di video ho fatto un sacco di video su snow runner gran turismo 7 forza horizon un po' tutti i giochi di guida eh monster truck grande mandata bravo 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 mano siamo più o meno vicini alla finestra del rientro dei box raga eh ciao amici di Twitch se non siete iscritti iscrivetevi al canale grandissimi ooooh scusate ragazzi le gomme non tengono raga 44 infatti sto sentendo amici miei ciao monster grande monster come stai? come stai? si si tutto bene tutto bene amico mio io sto bene sai che quando faccio queste gare qua sono un po' emozionato ti dico la verità perché monsta a parte che sono avuti sei anni in fila ho visto formula 1 ho visto quattro anni di fila o cinque anni delle super bike è un campionato DTM o era uno di quelle delle BMW non me lo ricordo comunque monsta è è qua una cinquantina di chilometri da casa mia forse 60 che fai e 40 minuti un'oretta su una monsta e è la pista no 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 scusatemi scusatemi raga ho sbagliato non volevo fare il replay scusate scusate volevo schiacciare il quadrato ho fatto il triangolo non volevo fare il feedback allora è su tv otto la gara ah la fanno in diretta si si infatti io ho iniziato le due apposta a monster perché iniziare troppo vicino a loro invece così ho optato per iniziare un po' prima così voi amici potrete venire dentro a vedermi e poi o rimanete per l'ultima parte della gara mentre guardate mentre guardate la gara reale gli visti su tv grande seguite Marco Drams su tablet primo Leclerc anche nella mia gara primo era Marco Drams Leclerc bella bella sono felice l'importante adesso è fare come nella mia gara che bisogna andare forte preservare le gomme monster ti saluta Charler grande monster oh se basta investere fuori poveretto deve uscire e ritirarsi anche dal mondo mondiale è fuori Sebastian Vettel è fuori ragazzi Vettel è fuori dalla gara GP di Monza 20-22 GP Monza 100 eh Monza 100 questi cartelli fighissimi delle 100 gare a Monza eh tanta roba Monza tanta roba Monza Monza non si tocca allora siamo al ventesimo giro siamo in bandiera gialla eh ok adesso vedi Statty Car e tutto vantaggio va via eh 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 potrebbe anche essere potrebbe essere che mi impasto io eh però spero di no allora ti dico la verità potrei fare come diceva l'amico Manuel 60% di difficoltà diciamo che ho ottenuto il 50% oggi anche se la pista la conosco bene la macchina va a una meraviglia va a una meraviglia la macchina va a una meraviglia il G923 mi sono riuscito a pulirlo ho fatto anche un video su YouTube ragazzi se vi può interessare come pulire la pedaliera del vostro volante eh dettagliata quindi con le viti e tutto se volete vederlo vi farebbe solo che piacere e magari poi vi serve ti giuro monster guarda sono andato sono andato a vedere guarda eh guarda prossime gomme nuovo quelle bianche sono andato a vedere perché non vorrei che c'era lui che mi metteva le wet cazzo di full wet allora facciamo la strategia guarda ragazzi questa è la strategia Ferrari tra il ventesimo giro entra e mette le wet nooo Mattia povero Mattia che errori che errori da principianti 50% di gomma 50% infatti sento che ragazzi cosa facciamo? ditemi voi fate il Mattia della situazione dai monster grande grande pitta 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 cosa vuol dire? che parola è pitta? pittop va bene subito? al ventiduesimo già mi dite? bisognerà vedere telemetrie eeeh ma sono che al 60 sette giri oltre ahahahahahahah ahahahahah beh diciamo che siete un po' anche voi un po' un mattia c'è un mattia dentro tutti noi grazie grazie ragazzi grazie, volete proprio vedere Marco Dranz Leclerc fallire c'è anche un pubblico spettacolare qui a Monza il mio pubblico il mio pubblico siete voi da che mi devo pettinare ragazzi anche se andiamo a 300 all'ora bisogna sempre tenere i capelli a posto che barba che è tra sistemi diversi tra pc e play xbox, non c'è mai un modo veloce di mettere l'amicizia allora tiene veramente a fatica vi dico la verità facciamo un altro giro entriamo ho 14 secondi, non ho nulla da temere è la gara abbastanza stabile anche loro come adesso già dai lo facciamo il 24 lo facciamo adesso ma vado abbastanza forte dici che non dai il 22 poi il 22 come funziona il giro? il 22 l'altro pit allora se faccio adesso il 23 no adesso sarebbe il 24 al 24 l'altro pit qua non lo faccio ragazzi fatemi fare la telefonata a Mattia adesso gli dico io di come fare il pit stop perché ho visto che già a 22 giri la macchina non tiene quindi l'ho avverto gli dico guarda Mattia attento perché al 22 già comincia a andare piano la macchina cominciano già a slittare le gomme dai da che gli faccio la telefonata? allora se aspetto Monster se aspetto il box ah ok perfetto se aspetto il box Mattia voleva questo lo vedi nell'angolino le wet invece io metto le dure tanto ho abbastanza vantaggio che non ho problematiche no ancora il triangolo ragazzi scusate mi perdono io non voglio fare il l'altra volta l'avevo disattivato ma perché devono mettere il esatto ah cazzo mi sono dimenticato scusate ragazzi power a diet adesso andiamo adesso andiamo adesso andiamo giuro 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 mi sono dimenticato perché ho dovuto riavviare ho sbagliato il tasto devo tirar via il replay dal triangolo devo farlo su un R2 un tasto che non tocco e adesso mi mette le wet aspetta fammi vedere dovresti iniziare a sentire gli effetti delle gomme consumate no le wet ma forca misera no 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 hai ragione hai ragione ho sbagliato io cazzo rola cazzo è sterrato oh mio dio non tiene più ciao amici non tengono più non tengono più beh però 56 perché si sta comportando perché questo tipo di comportamentazione questa macchina dai che entriamo allora abbiamo tutti le medium ma io vado con le dure io vado con le dure potete di mettere le medie eh spada un attimo però il mattia che è dentro di voi cosa vi dice ragazzi S H I eh no no devo metterle a le comfort che stai bella raga pit 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 amici mi sono ricordato di fare pit allora nel momento giusto box 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 ottima entrata sembra una sosta ok siamo felici con questo risultato oh ma hai messo le bianche si ok eh perché qua non si sa mai eh non spingere su ragazzi ma secondo voi hanno da bere orca loca davvero c'è Perez ragazzi ciao Nello no è 50% Nello grande poi sinceramente eh parlare con voi eh leggere i messaggi non puoi cioè ti sfido ti farei una sfida al 100% parlare ridere scherzare e fare e fare un po' la live così in questo modo per più di un'ora e quaranta è quasi impossibile però sì sì sicuramente c'è chi lo fa eh beh amico mio non è che devi entrare dentro e fare così eh te la sei presa una volta quella volta l'amo e entri a fare queste cose se non vuoi vederlo vai cioè Nello però ti devo dire io la faccio a 50% ma non me ne prega niente cioè sinceramente Nello non ho proprio nessuna voglia di giocare con te dopo quelle volte che abbiamo fatto così che hai che sei sempre andato via arrabbiato non ha senso io gioco per dir ti metti e comunque non ti ho messo wet perché sono le blu le scritte no 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 sono bianche per fortuna sono bianche ragazzi eh lo so lo so ragazzi no 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 infatti pian pianino pian pianino arriverò sempre sempre un pelino più in alto adesso allora l'altra volta era oh oh stavo entrando con Perez era il 45% di difficoltà ma infatti io lo dico non è che se non ciò mi viene con lo sterrato esatto 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 andiamo andiamo sul prato possiamo farla dritta dopo eh e pian pianino pian pianino aumentiamo il livello il livello di difficoltà chiaramente ragazzi è tosta è tosta è tosta anche perché facendo un sacco di giochi questa settimana ho portato tipo 12 giochi diversi e gomme da neve si anche io avevo comprato le per la mia macchina le gomme neve che adesso no adesso ho comprato le 4 stagioni le 4 season e basta è della Michelin li ho comprato c'erano le Pirelli le P le sotto zero non mi ricordo più sotto zero 3000 sotto zero trebo erano una figata assurda e ci avevano mi sembra il simbolino blu non vorrei dire una stronzata ma credo di ricordare che c'erano tipo un bollino blu boh però non so potrei dire anche una stronzata perché mi ricordo le gomme della formula 1 che no neanche nella posta non è arrivato metti i cerchi da 15 ciao amici amiche di Twitch come state ragazzi ragazze grandissimi allora buona domenica a tutti 1 e 27 6 5 7 vai con le gomme nuove vai con le gomme scaldiamole un po' benvenuti a tutti nel canale di Marco Trans se volete non siete iscritti iscrivetevi ragazzi vi ringrazio e dai 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 e come si dice se siete iscritti vabbè grazie buon GP Italia Monza 100 a tutti tra un po' parte la gara vera non facciamo spoiler sul canale amici miei se succede qualcosa non diciamolo perché magari tanti amici vengono prima qui è 1,20 che è il don Charles Leclerc e Paul grande grande riusciranno i nostri eroi in 30 in 26 giri a in 26 giri a riuscire ad entrare nella Lega Marco Trans Racing Team MDRT ragazzi ragazzi il campionato del mondo di Formula 1 è spettacolare però è sempre beh guarda se vuoi venire ti do un paio di persone che vengono dentro che sono io stio nella lista di Gran Turismo sei sempre sesto settimo se vuoi ti faccio giocare con loro se visto che il tuo livello di sfida è alto Nello sei bravo e vuoi solo giocare non per divertimento ma il tuo divertimento è sfidare gli altri ti presento i ragazzi che giocano nel campionato eSport ma anche una ragazza si chiama Giulia secondo me ti dà paga anche lei non perché non sei bravo ma perché quella ragazza lì e il mitico Vertex sono cose pazzesche ne ho 4 o 5 anche Andrea oggi non c'è Andrea che lavora e penso che ti fai delle belle sfide se vuoi se vuoi ti do i e ti dentro una sera che giochiamo e se ci sono anche loro e fai una bella sfida al tuo livello perché io purtroppo visto che tutte le volte che entri nelle mie live dici sta cosa non sono al tuo livello mi piace non lo so eh amico mio sei abituato a altre sfide quindi devi andare dove fanno quelle cose lì cosa ti devo dire amico mio non saprei cosa dirti sinceramente Nello te la sei presa quella sera là perché ti sono venuti addosso a me vengono addosso in continuo e non me la prendo cioè cosa ti devo dire però anche quando giocavamo insieme io ero dietro di te quindi non vado più forte di te anche qui se gioco al 100% arrivo ventunesimo su venti capito quindi non so che cosa dirti amico mio io io ci provo mi diverto così non mi diverto se perdo sempre o se gli avversari devono essere 50 volte più forti di me certo che poi su Gran Turismo ho vinto anche delle gare online quindi e arrivo sempre non so quarto sesto settimo poi dipende ci sono delle piste proprio che non sopporto la maggior parte delle volte ciao amici amiche di Twitch come state? grandissimi mi raccomando se non siete inseriti iscrivetevi al canale grandi portiamo un sacco di giochi qui c'è tantissimi giochi poi adesso in day one ragazzi ci sarà God of War ci sarà Under Construction settimana sarà il 20 di questo mese che giochiamo con Sharder e Kevin Destiny 2 tutti DLC ci sarà Call of Duty quello nuovo che non ricordo mai come si chiama ho già prenotato Harry Potter e ho prenotato anche quell'altra della tipa lì Forspoken e ragazzi quello lì che assomiglia a Death Space quindi se volete vedere un po' di giochi diversi e divertirvi con me oh 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 la tisi venite sul canale ok adesso non riesco a giocare benissimo finora questo è il miglior tempo miglior tempo 1.27 anche i tempi non sono di certo da e-sports ragazzi allora se volete venire a divertirvi facciamo una risata venite da Marthodran se volete andare a competere ci sono altri canali che fanno Marthodran si ricordi la gara il mio video del belge si 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 fantastica fantastica eh allora adesso riprenderò anche abbastanza perché tra un po' inizio la gara e devo montare il volante eh si 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 eh vabbè dai un'altra volta non ragazzi non c'è problema io sono anche un po' stanchino quindi penso che dopo la fine della gara una carezza con l'amico Schardel me la faccio volentieri anche due eh magari la lega non la facciamo Schardel facciamo un paio di dare così ti dico la verità perché comincio a essere un po' stanchino e da quello che vedo mancano ancora 23 giri quindi c'è già ancora una mezz'oretta a 40 minuti buoni allora ragazzi sto portando anche SnowRunner con tutti i DLC ho speso un botto ci sono 10 mappe e tantissimi immagini se vi va di vedere i simulatori di fango di camion su fango ghiaccio terra crocce oh se magari cambio marcia e quant'altro venite a vedere le mie live e anche tanti video registrati su youtube dove faccio i montaggi faccio i pezzi migliori che sono carini e a volte quando gioco potresti crescere infatti per quello che io gioco da solo perché volevo fare anche queste gare così lunghe con Andrea con Kevin e con Schardel però crash al gioco e non mi va non mi va di perdere la la gara la gara con voi la domenica quella lunga poi in settimana non mi interessa anche perché comunque se gioco online mi crescia anche proprio tutto quindi effettivamente Schardel mi sa che no evito anche di fare la gara online dopo effettivamente adesso che mi ricordo bene ok grazie amico mio dai dai lascia la live così vedi come va a finire credo che finisca così nel senso un po' noiosa la gara non è molto almeno che succede che vado a sbattere perché non mi ricordo da qualche curva dovrebbe essere una gara molto tranquilla adesso voglio vedere magari di fare un temposto ecco un tempo un po' più di battere il mio tempo anche però se faccio tutte le volte così no abbiamo provato anche in altri modi Schardel ti ricordi l'altra volta che Schardel io guardo la pazienza ok grande mostra grande grande allora ragazzi non spoilerate per cortesia non dite niente qui perché non voglio che poi gli amici che entrano che magari la vedono dopo perché l'hanno registrata dai 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 se ci sei entra volentieri se no grazie che sei rimasto con me e se puoi lasciarla live attiva almeno vedi cosa succede rientri magari nei momenti noiosi della gara vera rientri dentro a chiacchierare con noi però non fate spoiler ragazzi grazie non dite niente della gara vera perché magari poi qualcuno che sta guardando me dopo guarda la gara vera poi si toglie si toglie è già successo una volta e si era arrabbiato ragazzi che poi se la vedeva la sera ho una paura boia perché mi chiude il gioco ti ricordi l'altra sera quell'altra volta che ho dovuto smettere la live alle 10 perché si era cresciato tutto perché mi crescia proprio il il non lo so raga non lo so la formula 1 possiamo provare i fai tu la lobby di una gara normale magari con un paio di gare e se crescio vabbè comunque la live l'ho fatta insomma non è 10 minuti che faccio la live possiamo provare però sinceramente ho una paura incredibile di fare sto formula 1 perché mi fa cresciare il gioco cresciando il gioco crescia tutto 1.27 dovrei scendere un po' sotto ciao amici amiche di Twitch come state allora ragazzi buona domenica buon GP Monza 100 2022 e buon divertimento con Marco Drums e la gara reale che c'è tra che comincia fra 10 minuti credo vero ragazzi alle 15 comincia la gara reale madonna ragazzi il secco dopo vado a fare un pisolino adesso attento se vuoi ci sono ok 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 beh dopo vediamo Charles perché sinceramente vi dico la verità che ho il piede e la gamba sinistra e la destra che sono un po' stanchino e calcolando che devo fare ancora 20 giri il giallo non è male ok mi raccomando non fate spoiler amici anzi se succede qualcosa scrivimelo su whatsapp ma non dirlo in live grazie una partenza magari disastrosa di qualcuno incidenti a raffica la prima variante insomma qualcosa di incredibile ok raga concentrato 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 anzi sai che cosa mi sa che dopo mi faccio un po' di snow runner ragazzi ho fatto tre o quattro video stamattina fortissimi se volete andate a vederli su youtube mi faccio un po' arrivo subito raga scusate se vedete che sto facendo così ma forza loca ok grande anche mandando un messaggio sul telefonino mentre corro con la mia formula 1 devo mandare un ciao a mia moglie no no raga ho messo il link del mio canale youtube grazie 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 amico è vero è vero hai ragione è sempre il primo marzo grant allora in base alle piste come vedete stavo spiegando prima anello che praticamente già non giocando sempre al gioco non me lo ricordo anche il gran turismo che sto facendo una fatica della madonna è che questa gara l'ho fatta talmente tante volte che più o meno me la ricordo tranne proprio di tanto magari quando parto le curve o a che velocità questa cosa qui poi la vedo man mano e praticamente non uso la traiettoria vedete che non sto usando la traiettoria no invece le altre gare si perché non me le ricordo quindi allora andare a snervarti al 100% al 120% addirittura non mi va e invece ci saranno altre gare che invece vedete il vedrete la linea per terra di dove fare la curva perché non me le ricordo arrivare a essere così competitivi e bravi bisogna vuol dire giocare sempre quel gioco solo quello finché si diventa percezionisti io purtroppo col canale e già di mio non riesco a già sto durando anche troppo sinceramente su questi giochi per il mio il mio modo di giocare quindi e ho fatto un po' lungo raga ma forse fammi vedere un attimo non vorrei niente che sono già le gomme un po' no 14-21 un po' come l'inizio chissà se anche nella realtà fanno il primo pit stop a 24 non usura molto le gomme ragazzi il circuito di monza secondo voi non so chi è rimasto qua ancora perché chiaramente voi se tornate a vedere la gara reale non non Poi sinceramente ho una certa età che a dirvi la verità non riesco a far troppe cose, ormai i riflessi sono veramente peggiorati, devo anche andare a farmi vedere la vista perché secondo me c'è qualche problemino di vista in più rispetto a un po' di tempo fa, guarda qua questa curva come l'ho fatta a mince gara, allora siamo sempre rimasti un po' così, Verstappen, Perez, Russell, vabbè prima non c'era, c'era Sainz, loro più o meno si comportano la stessa maniera, ciao amici e amiche, oh scusate scusate ho fatto un dritto, amici e amiche di Twitch, come state? Benvenuti in GP Monza 100, la gara, campionato di Formula 1 2022 e quindi buona domenica a tutti ragazzi, stiamo correndo per divertirci e speriamo sempre che arrivi prima alla Ferrari o comunque che sia una bella gara, se voi non siete fan della Ferrari comunque che sia una bella gara un po' per tutti, eh? Siamo al trentottesimo giro, mentre la gara reale partono adesso credo, eh? Allora io penso che finito la gara di Monza, a meno che succeda qualcosa di particolare vado a farmi un po' di snow runner, eh? Ciao amici e amiche di Twitch In prima! Per salutarvi ragazzi ho messo in prima Come state? Buona domenica, buon GP di Monza a tutti Centesimo Gran Premio a Monza Allora andiamo a vedere un attimo la finestra per il secondo pit No, in realtà Eh, 22-44 dovrebbe essere Se la prima, la sosta l'ho fatta a 22 giri No, usato? Nuovo, intermedie? No raga, raga Non ho gomme Ho intermedie E le medie usate Ecco, ho le Sono intermedi usate Ma non potevano darvi delle gomme nuove, no? Eh, delle gomme di merda Non lo so, aiutatemi ragazzi Fate il mattia binotto Del caso Nel senso, datemi una mano Non nel mare Spit stop lo faccio il secondo A quanti giri E con che gomme metto? Metto le S nuove Le M Le medie usate Intermedie nuovo Vabbè, ma non sta piovendo Quindi perché devo mettere le intermedie Non è neanche da chiedere Caspita O le WET Dai mettiamo le WET Allora, no Il dilemma è Metto le M Allora, tiro un po' di più E facciamo 10 giri 9 giri 8 giri Con le S O entro a Non so 42, 44 Dici le nuove? Le Ok, dai Allora mettiamo le nuove Grande Charger Grazie Vai con le nuove Però sono ancora buone Eh Eh Medio morbido Esatto Sono ancora nuove Queste qui, eh Vabbè Vediamo un attimo Se no No La PIT volevo Farlo lo stesso Tip stop Fortissima Molto Molto Bella Che tagliata Davvero? È una figata Caspita Vorrei vederla Mi piace farmi una foto E mandarla su A tappa Amico? Non lo so Però se riesco Se no Vabbè Lascia stare Dopo la vedo Tanto se finisco La gara Vado un attimo Sulla La 7 Avete letto O la 8 Dov'è che la stanno Trasmettendo? Perché io All'inizio Ragazzi Pagavo L'abbonamento A parte Su Sky Avendo Sky Dalla vita Della Formula 1 Dalla MotoGP Poi Le gare Facendolo io Al sabato La domenica Sono andato A non guardarle più E quindi Ho disdetto L'abbonamento Anche perché sono Un centinaio di euro L'anno Quindi Mi ci compro due giochi Con 100 euro E quindi 1.26.6 che è il piccolo avete visto che mi è venuto addosso? Ciao amici e amici di Switch, buona domenica a tutti e a tutte! Stiamo correndo a Monza, GP del campionato 2022, Monza 100, 100 gare di Monza, è in questo momento in live, la gara reale e ho quasi finito la mia gara col Marco Dranz Leclerc in pole, speriamo di portare la stessa fortuna della mia gara anche, no ho sbagliato il tasto sempre tutte le volte sto triangolo invece del quadrato ragazzi scusate ho fatto il terzo che faccio caspita, poi quando mi serve sono finiti, quadrato qua e quadrato, passi per gomme S, si ma praticamente sono nuove queste gomme mancano 10 giri, potrei entrare un po' nuove queste gomme, non so neanche cosa fare ragazzi che legnate che dà, ogni tanto il mio Logitech G923 un po' nuove che legno della mia gara... Entriamo, entriamo Box, box, box Dovevo pisarli prima In teoria c'era la realtà Ragazzi le gomme non erano fuori Una sosta fantastica È stata più veloce di quanto previsto Verstappen Ultima sosta Abbiamo Verstappen davanti alla fine Grazie 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 dobbiamo prenderlo e superarlo in otto giri Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non sbaglia. Non posso non vincere a casa mia. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo Verstappen, 1.25 Marco Dranz. Questo è il miglior tempo. È andato, è andato Verstappen. L'abbiamo superato. Quindi non può dire che è il vantaggio della macchina o altre cose. Non l'abbiamo superato due volte in gara. Grande dram, slecle! Non l'abbiamo superato. La squadra è 21,5 secondi. Bravo Sainz. Quarto. È riuscito a passare l'assel. Quarto. 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 mi sta venendo un sonno ragazzi io spero che anche loro in gara non sia così perché alla fine è veramente dura allora andiamo a passare il doppiato albon deve stare molto attenti con i doppiati è incredibile allora stasera carla non c'è sono talmente stanco che non so se facciamo gran turismo che avverto se invece faccio snow runner o faccio destiny te lo faccio sapere se non facciamo quello domani sera possiamo fare gran turismo allora oggi gioca Kevin quindi martedì possiamo fare la lega di formula 1 domani possiamo fare gran turismo o altro adesso poi vediamo ok gran turismo non smetterò mai ragazzi di giocare no gestionando un po' una pausa perché come si diceva a fare le cose troppo 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 sempre perfettine dopo un po' stancano tre giri amici tre giri tre giri per la vincita per la vittoria no gestionando un po' stancano snow runner ieri ho aperto le due mappe del dlc allora fammi sapere se ci sei formula 1 non credo proprio ti dico la verità perché ci ho giocato oggi e farlo anche stasera mi romperai le palle o facciamo gran turismo 7 o mi metto a giocare a snow runner o alla regina dei di sto gran coso alla regina dei strutturi tu destini perché ieri sera mi sono preso molto bene giocare con destini alla regina dei strutturi sono delle belle missioni delle belle cose vediamo un attimo amico mio è un po' che non giochiamo insieme ma fidati che poi giocheremo insieme spesso fammi sapere se poi vuoi comprare snow runner perché io non lo abbandono snow runner mi piace talmente tanto un po' come gran turismo il formula 1 che ci giocherò sempre anche se abbiamo costraccio simulato fammi sapere fammi sapere perché poi quando tornerà a prezzo pieno non conviene ricciardo tu lo sai che mi devi far passare no perché ricciardo è un po' un testone quando vuole 5 giri noi dobbiamo farne 2-3 ci sta 52 raga ok ok allora quindi non è l'ultimo è il penultimo ragazzi ho doppiati per sta appena 5 secondi ho il piede destro amici che non lo sento più e quindi non è l'ultimo ultimo giro 1.258 dopo il nuovo miglior tempo volevo fare un altro tempo ma partiamo malissimo 8 secondi dalle state 30 da pere Russell è riuscito a superare speriamo che Sainz dai faccia la Sainz nell'ultimo momento Carlo dai compagno di squadra grande Sainz l'ho appena detto ragazzi Sainz ha superato Russell grande ciao amici amiche di Switch siete arrivati all'ultimo giro l'ultimo giro di GP Monza 100 2022 ultima parabolica ultima curva e Marco transvince la gara di Monza GP di Monza 2022 centesimo gran premio a Monza raga Magnus e l'ho aperta ho fatto la polo ho guidato tutta la gara Magnus grande grande Magnus Marco trans Leclerc la macchina è andata perfettamente amici perfettamente spettacolare oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva bella charler questo è per voi ragazzi del duro lavoro siiii siii ah che soddisfazione raga ho un bel casco ai punti siiii ah questa giornata è incredibile chi è stato il migliore in pista per te oggi credo che la scelta giusta sia il pilota dell'As beh che finale per un altro favoloso fine settimana di corse tredicesimo ci vediamo la settimana prossima tredicesimo highlights ragazzi qui Verstappen ha fatto una partenza incredibile oh nessuno si è toccato dentro bravi tutti bravi tutti bravi tutti wow bellissima gp monza 100 2022 gara entusiasmante incredibile è sempre stato charles marco drams leclerc primo attimi attimi incredibili qui qui era il cambio gomme dopo il cambio gomme è dovuto è dovuto correre forzatamente marco drams prima che entravano le red bull nei box io stavo entrando io stavo entrando c'è entrato anche il mio compagno carlo sainz eccolo qui eccolo qui eccoli incredibili eccolo 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 che il tifo ferrarista italiano esulta si era un doppiato si e il giro 53 marco drams leclerc vince il gp di monza 20 22 allora ragazzi facciamo un pezzo di replay tanto per come si fa a cambiare la visuale e niente vi lascio 5 minuti solo con il video della gara vi ringrazio vi saluto ciao amici grazie per essere stati con me sono veramente stanco non riesco amico chard a fare un qualcosa adesso insieme davvero scusami ma sono distrutto adesso non andrò a farmi un pisolino anzi no magari andiamo su snow runner che è un po' più tranquillo grazie di essere stati con me grazie di essere stati con marco drams game channel buona gara reale a tutti che sono le le tre e mezza quindi penso che saranno sui 20 giri loro realmente magari vado a vedermi un pezzettino di gara anch'io e mi raccomando di seguire il mio canale twitch mi raccomando anche di seguire il mio canale youtube che vi metterò adesso e la gara è finita ha vinto la ferrari la monza 20-22 mi raccomando di seguirmi perché ci saranno tantissime gare le leghe con l'amico chard e se volete giocare con me possiamo anche organizzare di fare delle belle serate o dei sabati o domeniche a giocare insieme quindi lasciate il follower sul mio canale twitch se volete lasciarmi un abbonamento dei beat o una donazione grazie di tutto per il vostro supporto amici miei perché ne serve ne serve e spero che la gara reale vada benissimo quindi io vi ringrazio la mia gara è stata vincente è stata dura non tanti colpi di scena ma è comunque stata è stata decente adesso io toglierò il mio video vi lascio un po' di minuti con la gara in replay dal dentro che normalmente io uso la visuale da fuori vi ringrazio tantissimo vi linkerò i miei canali e ci vediamo tra pochissimo tra pochissimo con credo di venire in live se non faccio una dormitina perché sono un po' anzianetto credo di venire ah qui ho fatto lungo qui ho fatto lungo ragazzi credo di venire con SnowRunner SnowRunner è un gioco di camion nella fangazza nel fango ghiaccio e neve e bisogna fare dei trasporti diciamo che le mie belle due rete oggi di Formula 1 le abbiamo fatte e vi aspetto stasera alle ore 21 o con Gran Turismo 7 o con Destiny o con SnowRunner poi vediamo un attimo comunque ci saranno tantissime novità tantissimi giochi sul canale di Marco Dranzi vi lascio un pezzettino di video di replay con la gara di Monza gustatevela e dopo interrompo la live ci vediamo ragazzi grazie di tutto e mi raccomando la vostra iscrizione al canale mi farebbe tanto tanto piacere e anche l'iscrizione su Youtube che ve lo lascio adesso nei commenti quindi grazie davvero a tutti per essere stati con me e ci vediamo alla prossima gara reale che faranno non mi ricordo dove non mi ricordo quando ma sappiate che mezz'ora un'ora prima della gara reale c'è sempre la live di Marco Dranzi insieme che simula la gara reale ciao a tutti amici grazie ci vediamo alla prossima comunque tra una mezz'oretta così arrivo con SnowRunner o con Destiny la regina dei sussuori sempre qua su Twitch ragazzi quindi non mancate alle mie live di tutti i giochi di tutti i giochi ciao amici da Marco Dranzi è un saluto un abbraccio mitici voi siete davvero mitici ciao ragazzi ciao ragazzi e chiaramente io vi avevo detto che lasciavo un attimo il video andare del replay e invece ho stoppato vabbè non so cosa dirvi amici miei allora vediamo un attimo prendiamo accetta ok ho accettato la votazione non so di che cosa nulla ok va bene la lega la lega ok perfetto perfetto va bene amici ci vediamo alla prossima ciao da Marco Dranzi è tutto ci vediamo alla prossima ciao amici ciao amici ciao amici